Siamo qui con il mister del Ciliverghe Raffaele Zucchi, mister è stata una partita combattuta fino all'ultimo secondo, siamo riusciti a strappare il gol vittoria verso la fine e a portare a casa questi tre punti molto importanti. Sì, importantissimi, abbiamo fatto una partita secondo me molto bella sotto tutti i punti di vista, abbiamo sempre cercato di giocare comunque, i ragazzi hanno veramente fatto quello che io gli avevo chiesto, loro si sono chiusi molto bene, facevano fatica un po' a trovare gli spazi, sapevo e puntavo comunque anche in settimana che la partita si potesse vincere anche su un episodio e così è stato sul calcio d'angolo, siamo riusciti a segnare. Siamo qui con il centrocampista del Ciliverghe Filippo Lauricella, autore dell'assist Valso il gol partita, pareri sul match? È stata sicuramente una partita difficile, ma abbiamo portato a casa il risultato importante contro una diretta concorrente, una squadra forte e i risultati delle altre partite ci sono stati favorevoli, quindi a posto, andiamo avanti così.